a nicola è terminata anche la seconda settimana di preparazione il gruppo si va piano piano molto lentamente aumentando aumentando di numero come vanno le cose intanto al pala barton sì oggi in settimana si è raggiunto sebastian sole dopo un grandissimo risultato sono molto contento questo questi risultati qua possono anche segnare proprio e cambiare il corso di carriera di un giocatore darti consapevolezza di aver fatto veramente una cosa grande e ci vorrà un po di tempo perché lo come dire apprende la grandezza di cosa che ha fatto però l'ho visto già in condizioni ottime nel senso che tecnicamente è un giocatore adottato un giocatore che ci può dare veramente una grande mano e dobbiamo solo fare in modo di metterlo in condizioni fisiche ottime ottimali e sono sicuro che farà una grande stagione così potrei parlare anche di ognuno dei giocatori che sono qua che si allenano infatti commento commentavamo l'altro giorno con lo staff che veramente tutti i ragazzi stanno dando il massimo stanno cercando di fare al meglio di tutto quello che gli stiamo mettendo in programma ovviamente come hai detto te tutto gradualmente aumenta il volume di lavoro in settimana abbiamo cominciato a saltare quindi adesso sicuramente sarà un pochettino di più da divertirsi perché comunque questo è lo sport dove uno deve cominciare a saltare però del mio metodo di lavoro io la prima settimana sempre lascio e preparo prima le gambe il corpo ai salti e poi gradualmente pian piano comincio a inserirli quindi abbiamo superato questa fase qua ci aspettano due settimane di lavoro proprio di buon carico ed è quello dove dovremmo proprio mettere le basi di tutta la tutta la preparazione per cui dobbiamo caricare dobbiamo prepararsi bene perché dopo è l'unico momento in cui lo possiamo fare perché dopo quando si inizia a giocare si giocherà sempre e quindi questi momenti di carico ci saranno veramente veramente pochi per cui stiamo preparando per quel con quelli che ci sono stiamo facendo questa preparazione diciamo di base per tutto il campionato senti un'ultima cosa a breve inizieranno i campionati i campionati europei io voglio sapere a te come poi verranno gestiti no sia fisicamente che che tecnicamente i giocatori che mano a mano arriveranno al termine della della competizione il mio ovviamente parlo del torneo che al ridosso di del campionato noi abbiamo avremo due settimane più o meno del tempo da quando loro finiscono gli europei al momento in cui iniziano le partite in campionato comunque vada io lascio sempre una settimana di tempo di proprio riposare non solo il corpo ma anche la mente perché è importantissimo ci aspetta una stagione lunghissima e dei giocatori che abbiamo con la vnl con con le olimpiadi con gli europei arrivano arrivano spremuti completamente e allora è chiaro che io non posso nonostante volessi averli al più presto per sai cominciare a creare dei meccanismi automatismi tutto il resto per allenarci insieme eccetera ma sono più che consapevole che hanno bisogno di riposo hanno bisogno di staccare proprio almeno una settimana poi è chiaro che se qualcuno esce prima agli europei magari si aggrega prima questo lo questo lo vediamo però lo monitoreremo strada facendo ma sicuramente una settimana di pausa avranno una volta finiti gli europei grazie nicola